Ci siamo occupati più volte della problematica, sono le case popolari nella zona di Viale Europa e più precisamente nel rione Marconi a Reggio Calabria, una realtà difficile più volte attenzionata dalle forze dell'ordine per motivi di sicurezza, ma anche dove esistono molti casi di abitazioni occupate abusivamente. Un quartiere complicato dove gli elementari servizi primari sono saltati o non esistono per niente, ma adesso qualcosa si sta muovendo nel verso giusto. Nelle scorse settimane il Comune è intervenuto per ripristinare alcuni tratti delle fognature con dei lavori straordinari, anche se alcuni cittadini che risiedono regolarmente negli alloggi popolari si lamentano che l'aria sembra diventata una discarica di rifiuti a cielo aperto, dalle macchine rubate e abbandonate nel quartiere e rigorosamente smontate e bruciate, alla spazzatura di ogni genere lasciata sparpagliata sul terreno. La carenza o la mancanza totale di illuminazione pubblica incentiva e alimenta queste illegalità. Sentiamo le testimonianze dei cittadini del quartiere e l'orolo lamin tele al microfono di Graziano Tomarchio. Venne e buttano tutte le cose qua. Hanno combinato un macello. Era tutto pulito qua, per bene. E da fuori hanno portato materiale dentro. Là hanno fatto un macello dentro. Non se ne può più. Qua non c'è pace. Cosa chiedete al Comune? Principalmente al signor Zimbalatti che ci ha promesso un po' di pulizia. La più grande l'abbiamo fatta noi. Quanto meno lui che ha detto all'AVR che ci caccia questa sporcizia qua ora, che ci manda due cami, una ruspa, qualcosa. E ha detto che ci disinfetta, pure che abbiamo un po' di pulce, i topi. Quanto meno che ci pulisce e ci caccia solo questo. Questo l'avete fatto voi? Sì, sì, stamattina. E poi la più grande la cacciamo noi. L'importante è che ci caccia qua, che poi puliamo noi. Come abbiamo fatto stamattina. Almeno la spazzatura, quanto meno. Che non vadano solo ad Arghillà. Pure noi siamo civili, non perché sono pericolanti le case, però un po' di spazzatura che ce la caccia pure a noi. Il sindaco, Zimbalatti, chi vuole.